Buongiorno ragazzi e benvenuto sul mio canale The Food Energy Channel. Oggi facciamo un completo. Iniziamo con, muoviamo un po' la testa per iniziare, testa davanti, dritta, dietro, dritta, sinistra, destra, alza il braccio in su, verso il cielo, prestiamo il braccio a destra e prendiamo il spiro del sole, pensate di allungare il spiro del sole, non allungare il spiro del sole, ok? So, lungo il braccio verso il cielo, and now, avanti, braccio giù fuori aria, su, in, inalare, fuori aria qui, inalare, and, ancora due volte, ex, and up, fuori aria, inalare, good, ottimo, now for me, stendiamo la schiena davanti, testa in linea con il spiro del sole, and, alza, ancora, schiena davanti, testa in linea con il spiro del sole, and, cubra la schiena così, in su, ancora due volte, e davanti con la schiena, ok? Questa volta piega, piega le gambe, piega, and, stenda le gambe, ancora un'altra volta, piega, and si stenda le gambe, and rialza la schiena, in questo modo come. Ok, ripeto dall'inizio, in avanti, testa in linea con il spiro del sole, due plie, and stretch, due plie, and stretch, and cubra la schiena per alzare, good, ok? and, su, di nuovo, stretch, and questa volta, we're going to go avanti, and open, in avanti, ancora due volte così, in avanti, in avanti, in avanti, la braccia, we're going to go over, so, piano piano, respiri, respiri, gambe tese, now, rialza così, su, alza il braccio a destra, sulle altre gambe, in avanti, con le schiena dritte, è stato un attimo così, respiri, and, prendi, gambe tese, and, prendi su, così, ok, now, gambe insieme, venite, andiamo a andare giù, metto, metto su, petto, e scendiamo così, good, plie, and stretch, plie, and exhalare qui, exhalare, in avanti, and fuori aria, good, ok, ma qui, andiamo avanti, in avanti così, ok, in avanti così, ma, for me, abbasso il ginocchio, studiamo indietro così, ma qui, si è sposto in avanti, ancora indietro così, straight, expalare, in avanti, iterare di piccolo, child pose, stendere con cinque, in avanti, di nuovo, mit~! piccolo cobra up with facing dog now by piedi and we go down with facing dog so spingete il petto verso la coscia and pensate di abbassare taluni così si taluni giù verso taluni ok torniamo in posizione planca abbassiamo giù chataranga punta tutti i tuoi piedi destra poi sinistra e alziamo di nuovo la schiena questo da upward facing dog oppure da copra di nuovo piedi sistema i piedi sistemati i piedi fuori aria spinge il petto verso la coscia ecco poi qui abbassiamo taluni pensa a spendere spalla e le cosci ma che prima stende la sinistra stende destra stende sinistra stende destra stende sinistra stende la gamba alza la testa and up inhalare exhalare piega la gamba piedi stendiamo le braccia su sedia and su benissimo inhalare braccia verso il cielo fuori aria sping exhalare piega la gamba piedi stendiamo le braccia verso il cielo fuori aria sping exhalare piega la gamba piedi stendiamo le braccia verso il cielo fuori aria piega la gamba sping exhalare piega la gamba il tuo fuori aria piega la gamba sping exhalare piega la gamba aria piega la gamba sping exhalare piega la gamba alza piedi, si mette i piedi indietro, così, spinge di nuovo le gambe alune giù, spinge il petto verso la coscia, apre il cuore sollevante ancora un'altra volta, così, abbassiamo le braccia, si, punti piedi, apre il cuore qui, apre il petto, schiena dritta, ok, good, a questa volta alza la gamba destra alza, 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 and in, ancora gamba destra, alza, 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 and in, ok, mettiamo il cuore presa sempre in lunge, and su, spinge avanti, bacino, and, capo davanti tesa, mani qui, un piccolo stretch, così, otto volte, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, peggio le gambe qui, spinge così, alza il bacino, and stretch, ok, nuovo, child pose, posizione plank, plank, abbassiamo le braccia, punti piedi, and apri tutto, petto alberto, apre il cuore, spalle giù, attenzione alla spalla, colla bene lungo, anche il sistema spinge i piedi, passo il legame sinistra, porto il cuore presso il petto, estendo da nuovo, posizione plank, lunge, petto in avanti, al fuori aria, opto bounce, and, one, two, three, 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 five, six, sette, otto, ok, con la schiena dritta, spinge avanti, piccino, and, bene, saluti, così, so, fanno spalla, ok, saluti capo me, così, muoviamo le gambe, so, controllate la schiena che si è dritta qui, ok, stendiamo le gambe davanti, braccia, così, metti le mani in questo modo qui, a fianco, posso tenere su la schiena, perché il contorno è che è dritta, no, vorrei che voi, piedi, punta, punta, flesso, punta, flesso, punta, flesso, punta, ok, prendiamo il braccio di nuovo su, questo cielo, allunga destra, allunga sinistra, destra, sinistra, destra, schiena dritta, quindi stai in all'area, o di all'area davanti, e state così, hand stretch, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, tieni i piedi, così, ancora, bounce, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, now, si possono avere il mato, in un'area davanti, così, con le mani, braccia clean, now, alza la parte del basso della schiena, fondo schiena, in, curva, ancora, alza, fondo la parte della schiena, non è curva la schiena, so qui, you're going to go, inhalare qui, ok, porto la schiena su, now, fuori aria qui, contract, inhalare, schiena dritta, dentifazione della spalla, exhalare, fuori aria, inhalare, exhalare, inhalare, exhalare, in, inhalare, e fuori aria, ottimo, ok, pancio in su, porto la coscia qui, ok, cambio la gamba, anche questa gamba qui, tesa, questa qui la porto più aperta, stendiamo, stendiamo tutti, due le gambe, vorrei, senza alcare la schiena qui, ok, attenzione, non alcare la schiena qui, quattro volte, lancio la gamba destra, uno, abbassa piano, hai, due, abbassa piano, tre, abbassa piano, hai, quattro, giù, cambio la gamba, uno, uno, due, tre, quattro, ok, vai, riprendete la gamba destra, così, ok, now, è molto importante, che questa gamba che non lavora, sia tesa, punto, punto, per i piedi puntati, eh, now qui, allunga questa gamba, questo modo qui, mette tutte o due mani, indietro al genocchio, and, la tira un po', ma non tanto, vorrei che fai il flesso, point, flex, point, flex, point, flex, point, tiri quattro volte, uno, due, tre, quattro, passa piano, prendiamo l'altra gamba, lo stendi, stendete così, and, point, flex, point, flex, point, flex, point, tira quattro volte, uno, due, tre, quattro, ottimo, good, posizione fanfala, ancora, controllate, con la spunta schiena, qui, lo impazziamo, scaldiamo, questa faccina, qui, così, ottimo, prendete la gamba destra, così, e la portate così, eh, questa spalla da male giù, mentre la portate, questa gamba destra, di qua, ok, ok, ottimo, cambiamo la gamba, con il braccio opposto, prendi la gamba sinistra, spalla sinistra, la mano appoggiata, non si alza, ottimo, la seduto, questa volta, accadiamo le gambe, ok, ora facciamo il stretch, prendiamo le gambe aperte, il resto del mani sinistra qui, il resto, il resto del gamba qui, e il resto, e il resto, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, hold, vediamo lì, ok, così, cambiamo, e allungo la braccia, così, eh, uno, due, tre, quattro, quattro, cinque, sei, sette, e off, hold, e allungo la braccia, e allungo la braccia, e allungo la braccia, un secondo, e allungo la braccia, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, fermo, andungo la braccia, questa volta mette le mani qui, alza il doffle, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, ottimo questa volta, il mano sinistra è qua, la mano destra davanti, cerchiamo, cercate di può fare l'inalza vicino al ginocchio, fuori aria, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, fanno così, cambi, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, fanno così ottimo, davvero, perfettamente in avanti, per me, in all'aria, fuori aria, in avanti, ok, date più avanti che potete, fate quello che fate qui, che riesce ad andare fino a fondo, ottimo, se no, va bene anche così, andate un po' in avanti ok, restiamo così, tenso secondi l'ultima cosa ora, è la schiena, siamo in questa posizione così tenete la faccia vicino alla terra, così, come è, sedete il sedere su quando arrivi qui, alza la testa, stacca il petto, in su no, qui, tocca il primodominale, pancia, petto, testa, no, lasciate le mani dove sono e portate il sedere indietro, naso attaccato alla terra, sì così, così, con l'unghia, cercate di poggiare il sedere sui taluni ok, ancora, da capo, all'inizio, naso vicino al talmento, così, hand out sulla testa, stacco il petto, continuate a spingere su, petto, apri il petto, ancora bene lungo no, tocco il petto, no, no, tocco il primo addominale, petto, testa, stendiamo indietro, potrete sedere vicino ai taluni ottimo e continuiamo a stendere così, sporsa le mani indietro, alza il bacino, 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 così ok, restate così, un attimo, restiamo così, testa completamente rilassata ora, piano piano, con la schiena, spalle e la testa si alza il bacino, ok, facciamo questo, ancora con la pampaccia, con la schiena dritta, se avete una sedia, questo ci sta qui la potete fare con un muro, se avete una bar, oppure una sedia, eh oggi dovete usare una sedia, per voi, eh con la sedia, in casa, se siete a casa, con la sedia mettete le mani qui appena appena così, ok poi dovete spostare la gamba indietro, ok, così e tu arrivi alla posizione come un tavolo ok ora tornate di nuovo così questo non vi riuscire la sala ancora, fai di nuovo e in avanti ora, per allungare la pampaccia, forgiate le mani sulla sedia, ok guarda qui, per allungare prima la pampaccia destra, ok pieghe la gamba sinistra, stende la gamba destra e indietro però, i taluni, le gambe destra devono rimanere sollevati con il peso centrale, questo punto qui, cercate di abbassare i taluni destro, così se muove i taluni verso il basso, ok così si allunga la pampaccia in questo modo qui, ok se cambiamo la gamba, soffiega la gamba destra e stende le gambe sinistra and now cercate di abbassare i taluni sinistri 1, 3, 4, 5, 6, 7 su, ma se avete problemi con la schiena e non riesci a fare la lunge potete fare in questo modo qui mettete la gamba destra e indietro, tende il peso sulla gamba sinistra sposto il peso da sinistra fino a destra, così ma sposto tutto il peso di nuovo sulla gamba sinistra questo è un altro modo per stendere con faccia cambiamo la gamba, questo è un altro modo per stendere con faccia così, ancora and ok bene so, spero che avete faccio il video che questo è un altro missione di principiante faccio del seguere so, iscriviti su questo canale qui per anche altri video che saranno arrivo metti un like e ci andiamo a festa volete sapere se avete qualche domanda lasciate le vostre domande giù ok dove sono le parti dei commenti e vi rispondo appena posso ok ok super grazie di nuovo per aver visto il video qui e ci vediamo a festa grazie ciao a tutti grazie